Ciao ragazzi sono Manu Vinci e in questo video vi vorrei parlare di quali sono a mio parere i migliori metodi per vendere su Amazon e soprattutto da dove cominciare per avere dei risultati veloci, ok? Ho un'esperienza di circa 11 anni per chi non mi conoscesse, ho cominciato a vendere in e-commerce nel 2009 e poi mi spostai su Amazon all'inizio del 2014, perciò ho un'esperienza di circa 6 anni sul mondo di Amazon e ho provato diversi metodi tra i quali dropshipping, fulfillment by Amazon, FBA da retail, ossia comprando prodotti da grossisti e private label e qui in questo video voglio spiegare quali sono i pro e con di questi tre sistemi prima di cominciare dobbiamo capire come funziona la catena di vendita perché dipende da dove compriamo i prodotti ci sono dei tempi di consegna minori o maggiori e ci sono anche dei guadagni più alti o più bassi, ok? perciò la catena di vendita incomincia dal produttore qui abbiamo tempi di consegna più alti però i prodotti che venderemo hanno anche un guadagno maggiore e si usa soprattutto il produttore per fare private label e fare anche FBA di retail perché come insegno nei miei corsi di FBA da grossisti, FBA di retail si possono trovare prodotti che possono venire direttamente dal manufacturer ossia dal fabbricante poi il produttore vende i loro prodotti al grossista e i grossisti distribuiscono i loro prodotti ai loro distributori che si chiamano retailers e quelli che fanno dropshipping solitamente comprano da retailers che è l'ultima catena dell'anello di vendita e perciò i guadagni sono molto più bassi ora partiamo dal dropshipping quelli che fanno dropshipping hanno un'entrata facile perché non serve nessun capitale da investire per comprare inventario perché si possono utilizzare dei software che ci fanno trovare dei prodotti a livello di retail ossia i distributori finali però lì noi dobbiamo aggiungere il nostro markup dobbiamo aggiungere i nostri guadagni che ci permettono di vendere dei prodotti che non sono tanto competitivi su Amazon con il dropshipping anche se ho venduto milioni con il metodo dropshipping però bisogna trovare dei prodotti che stanno vendendo a un buon prezzo da retailers ci sono tantissimi venditori che vendono su Amazon con il metodo dropshipping i guadagni sono molto più bassi di quelli che sono FBA di retail e Prevalable perché stiamo comprando prodotti dai retailers come avete visto nella slide precedente i retailers sono l'ultimo anello della catena di vendita c'è al momento un rischio molto alto di chiusura con il metodo dropshipping questi sono stati dei cambiamenti che hanno iniziato l'anno scorso per account su Amazon che sono veterani che sono già stati aperti da alcuni anni si può ancora fare il dropshipping anche se è rischioso mentre per gli account che sono più nuovi se si parte direttamente col dropshipping c'è il rischio che vi chiudano l'account permanentemente perché chiederanno una fattura per provare l'autenticità di un prodotto che voi ovviamente non avrete perché state facendo dropshipping perciò è il metodo più rischioso per cominciare anche se è un'entrata facile senza capitale non avrete nessuna fattura da presentare ad Amazon in caso ve lo chiedano l'altro metodo di vendita su Amazon si chiama FBA da grossisti più conosciuto in Italia come FBA di retail ma come avete visto nella catena di vendita il retail infatti è l'ultimo anello della catena mentre noi qui stiamo comprando al 90% da grossisti che sono autorizzati dai brand owners ossia dai fabbricanti questo è un metodo di vendita molto molto più sicuro non ho mai avuto problemi con questo metodo non ho mai avuto nessuna lamentela delle brand owners perché come insegno nei miei corsi noi contattiamo prima di tutto il fabbricante e se ci fanno comprare direttamente da loro benissimo altrimenti ci facciamo dare i loro distributori ossia i loro grossisti autorizzati da dove possiamo comprare i loro prodotti le loro brand possibilità di guadagno qua sono molto più alte infatti abbiamo margini che arrivano anche al 40-50% con prodotti comprati da grossisti si vende subito perché non abbiamo bisogno di fare nessun pay per click nessuna promozione, nessun marketing sono tutte brand di prodotti che hanno già altissime recensioni altissime possibilità di vendita e soprattutto perché stiamo comprando da grossisti abbiamo dei margini molto più alti la consegna dei prodotti è velocissima perché i grossisti che utilizziamo qua in Inghilterra per esempio ci fanno arrivare i prodotti entro 2-3 giorni al massimo noi riusciamo a imballarli entro 24-48 ore mandiamo ad Amazon ed entro una settimana i prodotti potrebbero essere già live su Amazon e vendendo, facendoci guadagnare però il metodo di FBA da grossisti richiede un capitale iniziale ovviamente come ho dimostrato in alcune live sul mio gruppo di Facebook si può anche partire con un minimo di circa 1000 euro che con un guadagno di 20-30% al mese crescerà molto velocemente entro 12 mesi a far circa 3-4 mila di guadagni all'anno che non è tanto male ci sono delle persone che lavorano 40 ore alla settimana per guadagnare anche 1500 euro perciò se si pensa di cominciare come feci io nel 2014 su Amazon di cominciare a fare FBA come un hobby se si continua a coltivare questo business dopo 12 mesi ci si può arrivare a un punto dove si può lavorare da casa utilizzando un prep center e non c'è più bisogno di andare a lavoro così che feci nel 2014 l'altro modo è il private label sicuramente il più profittevole perché state fabbricando i vostri prodotti stessi qui si possono arrivare anche a margini di 60-70-80% o più a seconda di che prodotto si sta vendendo qui però bisogna avere un capitale iniziale abbastanza più grande perché stiamo comprando un MOQ ossia minimum order quantity da un produttore da un fabbricante solitamente cinese perché lì costa meno la mano d'opera e si possono comprare prodotti in grande quantità a prezzi molto più economici ovviamente dipende anche da che prodotti perché secondo che cosa si ordina bisogna ordinarli qua in Europa o in America però se non sono prodotti tipo prodotti che si mettono nella pelle o che si ingeriscono si possono ordinare dalla Cina a prezzi molto competitivi i tempi di consegna sono molto lunghi perciò richiedono una pianificazione di inventario molto controllata perché per fabbricare un prodotto ci possono impiegare i manufacturer, i fabbricanti cinesi anche fino a 35 giorni lavorativi poi ci vogliono altre 6 settimane di spedizione marittima perché a meno che non abbiate il capitale di investire per spedizioni aeree che costano una bomba che solitamente vengono ricevuti i prodotti via aerea entro circa una settimana mentre con la spedizione marittima come ho detto circa 6 o 8 settimane però i prezzi sono molto più economici si può il pro di questo del Prevalable è che se si costruisce una brand una brand molto buona e profitable si può anche vendere in futuro per milioni di euro perciò il Prevalable ha tantissimi vantaggi però richiede più tempo e capitale per costruire perché non solo c'è bisogno di pianificare l'inventario per questi lunghi tempi di consegna ma ci vuole anche tanto tempo per costruire la brand ossia bisogna trovare i prodotti giusti prima di tutto perché si potrebbe questo è un rischio si potrebbe investire in un prodotto che magari non vende perciò bisogna essere bravi a fare delle ricerche prima di tutto con prodotti che hanno una buona domanda dove si può competere con la competizione perché se ci sono già 10 di questi prodotti che hanno tutte e tantissime recensioni stanno già vendendo da pazzi e voi comprate lo stesso prodotto è difficile poi che anche il vostro venda perché ci sono già i giganti in quella nicchia perciò bisogna trovare i prodotti giusti bisogna avere un buonissimo listino su Amazon per questo intendo fare delle fotografiche molto elaborate con dettagli elaborati con fotografie professionali fare una ricerca di prodotti di keywords per arrivare alla prima pagina perciò bisogna fare una escansione per spiare che prodotti stanno utilizzando quelli che già sono nella prima pagina per aiutare noi a arrivare in prima pagina come loro bisogna fare del marketing non solo su Amazon con i pay per click ma anche su un vostro sito fare del marketing su Facebook, su Youtube per far sì che ci sia anche del traffico esterno che vada sul vostro listino di Amazon per farvi crescere il best seller ranking ossia per farvi arrivare più in alto nel ranking di quel prodotto perciò c'è tanto lavoro nel background del private label che sì è quello che vi potrà dare i guadagni maggiori però ci sono anche tanti altri rischi che sono coinvolti nel lanciare un nuovo prodotto una nuova brand per me il mio favorito è l'FBA da grossisti questo è il modo che io consiglio a tutti di cominciare perché state vendendo dei prodotti che sono già nelle case di tutti che stanno già su Amazon che stanno già vendendo tantissimo perciò partire con FBA da retail è sicuramente il modo più facile e più sicuro per vendere su Amazon in questi giorni e quello che consiglio sempre ai miei alunni è che una volta che incominciate ad ingranare con l'FBA da retail potete poi investire nella vostra brand di private label quando avete poi una conoscenza un po' maggiore di quello che è Amazon come funziona e come costruire poi il vostro listino perciò sicuramente il mio favorito è FBA da retail perché se avete anche soltanto 10 prodotti che state comprando da dei grossisti che vi danno un guadagno di 2 o 300 euro al mese già state facendo 2.000 o 3.000 di guadagno e per arrivare a 10 prodotti non serve neanche tanto tempo con i metodi che insegno anzi ho fatto una live nel mio gruppo privato di studenti venerdì scorso e abbiamo trovato circa 30 grossisti nel giro di mezz'ora nel frattempo che stavo anche parlando e dimostrando come trovarli per diverse categorie per prodotti che vendono migliaia di volte al mese ecco perché io consiglio sempre di iniziare da FBA di retail in questo periodo perché state trovando prodotti che sono già di altissime vendite spero che abbiate imparato qualcosa da questo video vi prego di fare domande qua sotto se non fate parte ancora della mia pagina del mio gruppo di Facebook metterò il link qui sotto così che vi potete iscrivere per continui aggiornamenti sul mio cammino di Amazon e su quello dei miei studenti vi ringrazio se volete se vi è piaciuto questo video mettete pure mi piace iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video arrivederci ciao ciao